Ciao a tutti ragazzi sono Pammerz ed eccomi qua con questo nuovo video e questo ragazzi è un video abbastanza importante Infatti sarà il video dell'apertura del mio contest, il contest natalizio di Pammerz Mamma mia E appunto, quindi sarà un video molto importante che vi prego Per chi vorrà partecipare mi raccomando seguitelo bene, seguite le regole e tutto quello che vi dirò Allora, per prima cosa come sempre iniziamo a descrivere un po' il gameplay Ho scelto questo gameplay perché diciamo che è diverso, perché è diverso? Perché guardate le ricompense, ecco queste ricompense non si vedono tutti i giorni Diciamo così, e infatti era un V-Sat orbitare, come si chiama questo? Aeroguardia H6, una specie del genere Un'aeroguardia, quella che era l'aeroguardia H6 su MV3 diciamo E il lodster, ecco E queste ricompense veramente devastano in una maniera impressionante Soprattutto l'aeroguardia, che mo' non so, droni di scorta, ecco Droni di scorta soprattutto, molto sottovalutata Perché a me in questa partita mi ha fatto un buonissimo contributo Cioè, mi ha fatto veramente tantissime kill Per questo provate a usare anche ricompense diverse Che non siano sempre le stesse, ecco E il lodster, vabbè, ormai lo sapete che devasta in una maniera abbastanza scandalosa E vabbè, l'arma era... Intanto mi attacca la puntina, che sfiga L'arma, vabbè, questa classe ve la consiglio a tutti Con MSMC era silenziatore e basta Con due perk principali, due perk primari, scusatemi E due perk terziari Soprattutto, ragazzi, io sto rivalutando tantissimo i perk terziari Perché su questo gioco, non so voi Ma per me sono tutti importantissimi Come è stato il collateral col pompa, vabbè Lasciamo perdere Sono tutti importantissimi Perché c'è maschera tattica, geniere e destrezza Che sono i tre bonus, secondo me Sono tre bonus fondamentali da avere È per questo che io ora, su quasi tutte le classi Ho, diciamo, come si chiama Il, come cazzo chiama La wild card Per il coso avidità del terzo bonus, ecco Perché veramente il terzo bonus per me è fondamentale Averne due Averne due per me è veramente assurdo O destrezza Guardate qua intanto Boom, tripla In maniera abbastanza carina E quindi appunto vi consiglio, dai Di mettervi due bonus terziari Perché è veramente fondamentale Come già detto Va bene, allora iniziamo subito a parlare del contest Perché ci abbiamo poco tempo Allora, il contest appunto Sarà un contest natalizio Quindi Finirà Verso Dopo Natale, ecco Diciamo come il regalo di Natale Un po' Posticipato Vabbè E guardate qua intanto Ho preso il drone di scorta E guardate Mi farà un bel po' di kill Ah, il risultato è 80 kill Una cosa del genere Non mi ricordo E Vabbè, allora Stavo dicendo che Allora Il contest Sarà Cioè Scaderà Scaderà Più o meno Dopo Natale Poi vi scriverò Con precisione Quando E ecco Iniziamo subito col dire Che i vincitori Del contest precedente Che avevo fatto Non potranno partecipare I vincitori erano Non mi ricordo se Svalvolate un di tube O l'orivec Vabbè Svalvolate Il drone d'attacco Che strage Svalvolate un di tube E l'orivec Che erano arrivati secondi E terzo Non mi ricordo chi E Joker Epic HD Era arrivato primo Ecco E quindi Non potranno partecipare Appunto Perché Molto probabilmente Vincere Non si sa Soprattutto Epic C'è anche un canale Veramente bello E fa dei gameplay Molto belli Quindi Non so E vabbè A parte questo E Quelli che hanno partecipato Quelli che hanno vinto Che sono arrivati Nelle tre posizioni All'altro contest Non potranno partecipare E Ora Vi ripeto Le regole Che sono quasi identiche All'altro contest Quelli con più di 1000 iscritti Non potranno partecipare Questo per evitare Ehm Tipo Cose del tipo Ehm Eh ma Inutile che sponsorizzi Quello Perché tanto ha Eh conosciuto Eccetera eccetera Commenti di questo tipo Ecco Per evitare questi commenti Eh Non Faccio partecipare Quelli con 1000 iscritti Poi Quelli con sopra 1000 iscritti Poi per partecipare Mi dovete Semplicemente Mandare un messaggio Personale Con scritto Contest Contest Parteci qualcosa Vabbè Quello che cazzo Vi pare Insomma Qualcosa di pertinente Naturalmente E Io andrò A vedere il vostro canale Questo è molto importante Voi mi scrivete contest Con scritto Che ne so Nel messaggio Partecipo al contest Io andrò a vedere Il vostro canale E E poi Guardi Valuterò Appunto il canale Con In base a tre principi La frequenza Qualità video In senso Intesa come qualità Del gameplay E qualità Del commento Allora Naturalmente Io che vado di più A gameplay Molto un po' più Belli Ecco Diciamo che sono uno Che vada molto di più A gameplay bellica Al commento E Guarderò Naturalmente Sanno una specie Di media ponderata Quindi Guarderò Prima Darò più peso Al gameplay Poi alla frequenza E poi per ultima Al commento Ecco La qualità Del video Naturalmente Se è Con l'hdpvr Sarete avvantaggiati Però Non necessariamente Dovete Insomma Dovete Avere l'hdpvr Quindi Tranquilli Cioè Non succede niente Se non ce l'avete Ecco questo Ve voglio dire E Vada e poi Soprattutto Quindi Appena Decidete di partecipare Mi raccomando Iniziate a caricare I vostri video Cioè Non Mi sono arrivati Molti messaggi Di persone Che mi scrivono Eh Pounders Secondo te Dovrei caricare Un Focante Magari hanno fatto Un 90 Più È inutile Se lo carico Ora Perché Farà poche Visualizzazioni Eccetera Eccetera Ecco No Io Personalmente Anche quando ho iniziato YouTube La pensavo così Così Mi sono fregato Un botto Di gameplay Bellissimi Eh Ho fatto su mv3 Appena uscito dal gioco Un 100 o più E Sempre per sto discorso Non l'ho caricato E è rimasto sul mio computer Cioè Non si è più caricato Perché Perché poi ne ho fatti altri Ne ho fatti cose più belle E Naturalmente Quello Diventava un video vecchio Che nessuno guardava E quindi Era inutile Ecco E Quindi Caricate i video a stecca I vostri video a stecca Tutti Perché comunque La frequenza sarà importante È il metodo di giudizio E Naturalmente Cercate di mantenere Un Una qualità Abbastanza alta Guardate Qua intanto Stavo facendo abbastanza Un'azione molto bella Infatti Guardate Qua anche un po' Fortunato Che Insomma Non muoio In questa circostanza E Vabbè Allora Quindi Vabbè Le regole del contest Sono praticamente finite Non so se Mi sono scordato qualcosa Ve lo scriverò sicuramente Nei commenti E Ecco Cerchiamo di fare Un piccolo riassunto Sto cercando di fare Un piccolo riassunto Alla mia testa Per vedere Se mi è sfuggito qualcosa o no Ma mi pare di no E Quindi vabbè Iniziamo subito Col dirvi che Ho fatto su Black Ops 2 Il mio miglior risultato Questo ve lo voglio dire Per un po' Anche Perché Perché Vabbè Devo 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 Comunicarla a qualcuno Perché Ho fatto 153 kill Sul raid Tanto per cambiare Tanto la mappa Tanto per cambiare mappa Sul raid 153 kill E Sul dominio Cioè Non so come descrivere Veramente Ho intanto Tripla di lodster Solo lodster Veramente Guardate che devasto E Mi sono veramente Emozionato No vabbè Ma a parte gli scherzi Credo che Il video lo manderò A me la coda Non lo so sinceramente Comunque Se non lo accetteranno Sicuramente lo caricherò Sul mio canale Perché Sicuramente Non è Non lo voglio sprecare Come il gameplay Ecco E vabbè Spero partecipiate In molti al contest Mi raccomando Tenete d'occhio Le regole E cercate di non Garare E Ci vediamo Al prossimo video Che sarà Un altro episodio Di sciame con ogni arma Col Vector Domani Quindi mi raccomando Ci vediamo domani E alla prossima Bye bye Ah il risultato finale È 82.6 Perfetto Bye bye Padre Et Segurato Passiamo Uno Diogo Mi 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 Grazie.